benissimo c'è umane bene tutti vedi apposta più che altro perché ma anche se sappiamo più o meno come fa no non ci sta mai la mappa come no non dire niente caso arrestano eccoci compro a poco compro due volte quello ma è lo stesso il giubbottano i proiettili che c'è tu gente è lo stesso che c'ho io so che a me mi è morto il mio personaggio che panna il mio irl però ok ok occhio davanti da qua quindi aspre venite con me ce n'è uno uno sinistro fa due ore a questa è da lei vediamo se è questo che è successo è una scudata è fatto bene controllo sotto la porta io ho i nemici oh c'è uno proprio qua di fronte a me aspetta vieni qua entriamo da qua e se no aprile da qua e gli spavano non posso aprire la porta io aspetta voglio provare questo ce l'ho ce l'ho ce n'è un altro mangio una granata ho preso le armi e c'è un'arma sua di questa dove è andata mi hai scappato o è morto e scappato dai parola parola l'ho preso perfetto me lo dobbiamo lasciar qua questo si si tanto è fermo si si dimmi tu france saliamo sopra da qua andiamo metti il visore manda sempre prima Matteo aspetta no fammi controllo a me che c'ho qualcosa qualcuno mi deve aprire la porta però la stanza avanti è niente aspetta la labbra dov'è c'è che c'è a sinistra o a destra a sinistra c'è una nuova porta ultimo controllo e qua si può andare solo da una parte ok allora è un ufficio c'è uno stronzo con un fucine da santo proprio davanti adesso apro vai vai come polizia preso eh pure io ho sentito m'ho preso in testa io lo trovo davanti dove dov'è a terra l'ho preso l'ho preso l'ho preso magari stai zitto da dove dov'è è a terra là sopra là sopra sta vaffanculo manco un altro si controllo io questo qua oh ma si sce gli stai sciponuto voglio ma è piada ma io proprio dietro sai si qualcuno deve segnare questo fatto io sto ancora con un visore notturno mi trovo molto meglio quando vengo io vabbè ok vado vai vai io vado a sinistra mi piace è pulito controllo sotto qua bisogna controllare questa stanza prima però ok qua ci porta davanti a parte chi è dove sei ok mi sa questa è la gente sotto copertura no ma la gente sotto copertura è morto l'ho trovato io prima e qui non sempre su una sede controllo un exit sono sempre nelle schiene che portano sotto però non esco a vedere se c'è il nemico apro vai vai apri apri occhio davanti occhio sulla destra no è c'è quello da prima ah ok perfetto controllo questa porta qua eh vai controllo eh spesso è buggato a posto ok allora è in grande magazzino c'è uno dietro a un escavatore con un fucile da salto posso lanciare una granata se apriamo di fronte proprio appena apriamo la porta se la distanza è corta lo no non è proprio corta corta allora aspetta ehm dimmi gli posso lanciare ancora una granata aspetta ma mettiti dietro mettili qua su sto angolo della porta qua all'estero a sinistra tira una flash genna eh a destra ok dimmi quando tu apri io lancio ok provo di rimettere un po' su un auto eh che sennò per te oh ii oh crap lancio una canata cazzo ho lanciato? non lo so ah è una stordetta a posto a terra oh c'ho che sento il gas che esce eh eh si no poi ho lanciato io un aquimogeno tutto a posto ah va era la gomma era la gomma ah no perché ho lanciato un aquimogeno qui mi parlo non so se era un aquimogeno no mica è morto non vedo nessuno qua arresta mi sembra che stava da questo ah certo salva tutti i civili a posto abbiamo solo eliminato i minacci di mag ok controllo sempre qua sotto eh oh che fa? controllo vabbè non mi aspettavo mi distruggesse tutto posto pulito qua penso che da fuori controllo no eh da da stavo prima ok si 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 scendiamo sotto qua ci sono le scale no no fake madonna è qua è di fronte proprio forse apri la porta ha un fucile da santo ho preso le gambe ma t'ho preso le gambe come fa come cazzo faccio a non pigliarlo cioè roboi moito tu sei morto? si è morto penso quanti so tanti mi hanno sparato da tutti i ladri a me eh io ho sparato uno o ho sparato in testa col fucilato cecchino? non mi ho fatto piazza ma non potete esponare ma di da qua siamo venuti o no tu dove sei morto? là penso mi hanno sparato dalla porta a sinistra guarda come ho messo il fucile preciso dove cazzo? no i gott s Gee ho i'amma gott officer down talk reporting roger entity notifying medical Dov'è? 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 Ecco di... Non c'ho granada, sennò... Ok No, è una... Sono troppo esposto così Ci provo Dov'è? Lo favo? Anche me Eh, vabbè Ok Bene E stai zitto Quanti caricature ho? Qua due Qua? Cazzo Com? Com! 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 Qua me sparano 100-100 Ucciso C'era un'altra? c'è Calmati Ok, torno dentro Anche se forse dove andare da un'altra parte Ma non mi hanno furto proprio Chi è? Masso, masso Ma poi no Ma che cazzo varne No, perché ne hai buttato a terra Pazzo, è responsivo Chi sei più molto di me Avanza Vedete qualcosa voi che io non vedo? No Ma non c'è modo per accovacciarsi definitivamente No Ci sta Smettete a fare schifo Ma quanta gente c'è, scusa Eh, infatti, mi sono rotti i coglioni Ma entra qua, ammassa tutti i due Che? Spara, spara Ma che hai alti proiettili, è per tu Sono morto, aspetta Sarebbe ora, un pezzo di merda Mi è finita, mi è finita Il voto della missione, no Quindi, che dovevo fare? Posto, ho fatto tutto Ah, ok Manco l'estrazione, no, se Perché sono da fare l'estrazione? No, no B Manco male Ma perché in B? Siamo morti in due Ho capito, eh Mi dispiace Oh 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 Grazie a tutti